In questo video all'aperto voglio parlare di burnout, che non è il videogioco che c'era una volta e non è neanche quello che fanno i motociclisti quando vincono le gare, ma è quella sensazione di totale incapacità di governare più qualsiasi cosa. In sostanza quando si arriva a essere una situazione di burnout si è completamente sopraffatti dagli eventi, non si riesce più a controllare gli eventi, ci si sente completamente in balia di quello che sta succedendo. Ve ne parlo perché nell'arco dell'ultima settimana mi sono trovato di fronte a due situazioni, una molto grave direi di burnout e un'altra non così grave ma comunque siamo arrivati in quella situazione, una situazione in cui in un caso, diciamo anche in modo molto pesante, la persona è andata completamente in stallo anche dal punto di vista fisico e ha dovuto prendere anche precauzioni molto impegnative. Nell'altra stiamo comunque parlando di una persona che percepisce di non avere più il controllo di quello che sta facendo e non riuscire più a trovare una soluzione alla situazione per poterne uscire banalmente, per poter trovare anche il tempo per fare nuove attività. Sono in entrambi i casi, direi anche in tutti i casi, situazioni in cui le persone sanno di aver bisogno di far qualcosa, di magari di crescere dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche delle soft skills, sotto diversi punti di vista, però non riescono, non riescono perché hanno magari troppe cose da fare, si trovano in un loop sostanzialmente di attività e non riescono assolutamente a riuscire a gestire la quantità di cose che devono fare e quindi arrivano a un punto in cui scoppiano letteralmente. Ora, non è assolutamente una situazione facile, cioè bisogna fare molto attenzione, cioè è una situazione che porta anche a dei risvolti fisici importanti, cioè stiamo parlando di magari stress, depressione, ansia, ma anche a livelli molto importanti, quindi è una situazione chiaramente delicata da trattare, bisogna farci molto attenzione da un punto di vista degli eventi, quindi non bisogna assolutamente tralasciare particolarmente la cosa. L'ideale sarebbe anticipare gli eventi in modo tale da non arrivarci, però chiaramente non è sempre possibile, a volte bisogna affrontare le situazioni quando ce le si ha davanti. Fortunatamente per alcune persone c'è la possibilità di confrontarsi con qualcuno che può dare dei consigli e quindi ho deciso anche di fare questo video per parlare un pochino della tematica, però ovviamente come potete immaginare stiamo parlando di casi generali, queste situazioni vanno poi gestite singolarmente. I consigli che posso dare sono di carattere generico, però ogni situazione avrebbe bisogno di una particolare analisi e di una particolare valutazione per poter dare i consigli giusti. Allora, la prima cosa da capire innanzitutto è quanta possibilità c'è di uscire dal loop. La situazione di burnout non è nient'altro che effettivamente un loop e voi che conoscete la programmazione sapete che per uscire da un loop ci deve essere o una condizione di uscita o un break e in questo caso per uscire da questa situazione è necessario fortemente un break, quindi la prima cosa da fare è prendersi una pausa. Può essere ferie, può essere malattia, può essere addirittura aspettativa se la cosa diventa molto molto grave, però è necessario prendersi una pausa. Questa pausa va poi gestita bene, perché poi a seconda di quelle che sono anche le situazioni bisogna operare in maniera diversa. In qualche caso il burnout è talmente tanto forte che c'è proprio anche un scollegamento completo con la parte del cervello che ci permette anche di ragionare e di sviluppare codice. Quando la situazione è così tanto grave, allora la cosa migliore da fare è proprio fare tutt'altro che scrivere codice, cioè proprio allontanarsi per un periodo, non fare nulla che sia relativo al codice. può essere anche qualcosa che viene rintrodotto gradualmente l'attività di programmazione, ma ci arriviamo tra un attimo. Quello che per esempio io ho consigliato a una di queste persone che aveva una situazione veramente importante è stato quello di sfruttare questo periodo di pausa per iniziare qualcosa di diverso che lo appassioni fortemente. Può essere uno sport, può essere un hobby, può essere meditazione. L'importante è che sia qualcosa che gli faccia ritrovare il piacere di applicarsi in qualcosa. E poi cercare di mantenere anche questa attività a lungo in modo tale che possa essere utilizzata come valvola di sfogo nei momenti in cui stiamo percependo, sta percependo che il burnout sta ritornando. Quindi una prima strategia è quella di trovare qualcosa di alternativo che può essere, ripeto, una valvola di sfogo. In tanti casi il burnout è anche proprio dovuto a non riuscire proprio a sfogare tutto quello che si ha in testa, dal fatto di essere sempre con la testa sulle stesse problematiche e non riuscire a trovare modo di cambiare contesto. Ecco, è molto importante cercare di cambiare contesto. Quindi fare un'attività che può essere lo sport o qualcos'altro permette comunque quantomeno di sfogarsi, staccare la testa e riuscire a decomprimere un po' a quelle che sono le situazioni problematiche. Poi da qui, diciamo, ci si può riavvicinare in modo graduale alla programmazione, però anche qui cercando di lavorare su quelle che sono state le motivazioni che hanno portato al burnout. Qui inizialmente riavvicinarsi magari anche attraverso qualcosa di divertente. Possono essere magari delle coding challenge, dei giochi. Importante secondo me trovare anche qualcuno con cui lavorare. Può essere un piccolo team, ma può essere anche solo una persona. Un peer che ci permetta di riappassionarci alla tematica, fare qualcosa insieme, fare un progettino, fare anche solo dei piccoli giochi. Oppure prendere e andare a partecipare a dei meetup, se avete possibilità e siete in zone in cui ci sono, riavvicinarsi all'ambiente attraverso la passione di altre persone. È molto importante ritrovare stimoli in quello che si fa. Poi si va a lavorare probabilmente sull'ultimo tassello, quello più importante, che è quello dell'ambiente di lavoro. Se il burnout è generato dall'ambiente di lavoro, allora è molto importante cambiare l'ambiente di lavoro. E fortunatamente nel nostro ambito si può cambiare relativamente velocemente in questo momento storico. Però bisogna fare attenzione a non cercare di cambiare l'ambiente di lavoro durante un burnout. Perché se questo dovesse avvenire, allora potremmo peggiorare semplicemente la situazione. perché se stiamo cercando per esempio di cambiare azienda mentre siamo in una situazione di ansia completa dovuto al burnout, potremmo tranquillamente sbagliare i colloqui, potremmo trovarci a perdere dell'opportunità, ma potremmo anche semplicemente accusare il colpo. Quindi aggiungere ulteriore ansia ad una situazione già complicata di per sé. Molto in sottofondo. Quindi se la colpa è dell'ambiente, perché magari è un ambiente disorganizzato, un ambiente in cui c'è un solo sviluppatore e quindi è tutto sulle spalle di questa persona e quindi logicamente questa persona va facilmente in burnout per la quantità di cose che deve fare, allora una strada è quella di cambiare azienda, ma va fatto a mente lucida, va fatto in un momento in cui sia particolarmente tranquilli. Quindi prima bisogna interrompere il loop, cercare di rimettersi in carreggiata da un punto di vista psicofisico, riavvicinarsi un pochino all'ambiente e poi lanciarsi nella ricerca di nuove opportunità, se il problema è quello. Se il problema non fosse quello, allora probabilmente un motivo è di natura organizzativa, quindi magari non si è sufficientemente organizzati dal punto di vista del lavoro, è troppo frammentato, troppo spapegliato, troppo privo di una logica, quindi bisogna lavorare, se si può, dal punto di vista organizzativo. Chiaramente ci sono aziende in cui questa cosa c'è un'attenzione, altre in cui questa cosa non è particolarmente seguita, quindi in quel caso cambiare azienda è la cosa migliore che potete fare. Peraltro sto registrando questo video il giorno dopo del World Mental Health Day, ovvero la giornata mondiale della sanità mentale, credo caschi perfettamente a pennello, perché comunque andare in burnout vuol dire veramente rischiare dalla vostra sanità mentale, quindi è molto molto importante che ci date peso. Questa è una situazione peraltro in cui capitano molto spesso le persone che lavorano, perché è una situazione tipica, figlia delle situazioni lavorative, dell'ambiente lavorativo in cui vi trovate, della malgestione di un team tecnico, di persone tecniche. Quindi spero di avervi portato un po' di consigli per quanto riguarda le situazioni in cui vi potete trovare, però ve lo ricordo, sono tutte cose troppo generiche. Se siete in questa situazione vi consiglierei comunque di farvi sentire, perché farsi sentire, manifestare di essere in questa situazione è il primo passo per poterla migliorare, per poterne uscire. Quindi se siete in questa situazione non vi fate problemi, iscrivetevi anche pure, cerchiamo comunque di trovare una soluzione. Io vi ringrazio per avermi seguito, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi alla community su Telegram, seguitemi su LinkedIn e sugli altri social, quindi Instagram e Twitter e ci sentiamo presto. Ciao!